Sono gravi le condizioni dell'operaio rimasto folgorato mentre era impegnato nella raccolta di ciliegie. Il 45enne di origini albanesi con cittadinanza italiana è ricoverato nel reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino dove è stato trasferito dopo le prime cure ricevute dai sanitari del pronto soccorso di Solofra. L'uomo prontamente soccorso appena arrivato nella struttura sanitaria della città della Concia era in arresto cardiocircolatorio. Dopo essere stato rianimato è stato d'urgenza trasferito presso la città ospedaliera. La prognosi è ovviamente riservata. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri della stazione di Montoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente verificato si stamane. L'uomo, residente nella provincia di Salerno, operaio di un'azienda agricola, secondo una prima ricostruzione era impegnato nella raccolta di ciliegie. Nel movimentare una scala di ferro alta circa 4 metri ha toccato accidentalmente dei cavi ed è stato raggiunto da una scarica elettrica.